In Kenya, la diffusione del coronavirus minaccia la vita di migliaia di persone. Donne e bambini che non possono semplicemente lavarsi le mani. L'emergenza coronavirus. Bisogno di acqua per essere combattuta. Noi di ActionAid abbiamo bisogno del tuo aiuto per garantire acqua potabile, kit igienici e sanitari per fermare il virus. Salva la loro vita. Dona ora con un SMS o chiama da rete fissa il 45511. Senza acqua non possiamo fermarlo. Grazie.